Eh ragazzi, camerate, comunisti e compagni e amici, bentornati a tutti, bentornati a tutti e vi giuro che non dirò mai più la cosa, si può scendere più in basso e oggi è una brutta giornata e lo avevo detto inizio live, piuttosto che un pareggio preferisco una sconfitta perché deve essere chiaro il segnale che la tendenza di questa squadra è negativa che questa squadra fa schifo, che questa squadra è impresentabile perché questo è, cioè chi ad oggi mi trova un qualcosa di positivo di questa squadra è tolto l'inserimento di Kurfalidis che adesso aveva i crampi gli ultimi dieci minuti ma non se l'era, l'hai fatto entrare al novantunesimo con Kurfalidis che gli ultimi dieci minuti aveva i crampi aveva i crampi perché giustamente è un ragazzo che non l'hai fatto giocare mai, non l'hai neanche convocato e alla fine aveva i crampi ma tu hai fatto entrare al novantunesimo cioè io veramente, una scelta così sciocca proprio non perché Nunzio Lella debba essere cross, debba essere barella, un fenomeno ma perché voglio dire, è un ragazzo che corre, che si impegna se c'è un ragazzo con i crampi non vedo perché non possa giocare dieci, quindici minuti Nunzio Lella vabbè, tolto questo, tolto questo, tolto questo che era l'unica cosa di nuovo che posso dire sulla gestione oggi dei cambi da brividi, da brividi, cioè in casa dopo che hai fatto 4 punti nelle ultime 5 partite hai fatto dei pareggi anche a culo e dopo tutte queste cose qui tu metti Zitolwumbo che è il giocatore più decisivo del Cagliari ad oggi lo metti all'ottantesimo e secondo me la cosa veramente al di là di questo ma folle è levare Viola al 65esimo per mettere De Iola in regia infatti poi dopo che ha perso nell'arco di 10 minuti una cosa come 15 palloni dopo che ha perso tutto quello che poteva perdere a livello di palloni ha spostato Macumbo che ripeto, Macumbo oggi ha altra prestazione né carne né pesce, un giocatore veramente che lo guardi e dici questo lo pesco, gli tiro una freccia, lo cannono, gli tiro un colpo, qualcosa non lo sai, non lo sai se è un pesce, se è un bisonte, non lo capisci cioè Macumbo lo vede 10 partite, 10 partite è un'idea diversa io l'idea che mi sono fatto io è che è un giocatore scarso scusate ad oggi lo dico, per me Macumbo è un giocatore scarso e viste le spese che poi sono state fatte nel mercato è un giocatore che non andava preso poi vogliamo parlare del primo tempo, vogliamo parlare dei primi 10 minuti cioè il Cagliari non è entrato in partita, il Cagliari dopo 10 minuti doveva essere sotto 2-0 fine, fine della storia di ogni tipo di altra riflessione poi potete tirarmi fuori Emma al gol, Boris non è stato impeccabile potete tirarmi fuori tutte le cose che volete di colpe marginali ma Boris ha fatto un miracolo veramente sul primo gol perché lì rimane in piedi e gliela para con una mano aperta a inglese che gliela tira addosso ma lui è bravo a rimanere su e quello è veramente un miracolo poi fa altri 2-3 interventi importanti poi sul gol non è impeccabile, nelle uscite come al solito a me non piace deve migliorare e soprattutto nel tempismo è sempre un po' in ritardo o un po' in anticipo quindi da rivedere da quel punto di vista ma oggi cosa vuoi dire a Radunovic passando i due centrali sono contento sono contento di vedere che in difesa abbiamo Baresi e Maldini ed è per questo motivo che non deve giocare altare ma io sono contento sono rassicurato nel vedere che oggi Capradosi ha fatto una partita incredibile che non si è mai perso inglese che l'ha marcato sempre vicino facendogli sentire la presenza che non si è preso un tunnel dopo tre minuti un tunnel clamoroso che ha spalancato un'autostrada davanti solo al portiere salvo poi miracolo di Radunovic ma io ripeto sono contento sono curioso oggi di vedere una partita che ad altare avrebbero giudicato con un'insufficienza un'insufficienza gravissima con tanto di commento arredato di attacchi pesanti oggi sono curioso di vedere cosa ne sarà del voto di Capradosi che ha fatto secondo me una prima frazione ha tolto un intervento un primo tempo veramente Capradosi ha sbagliato di tutto ha lisciato due tre palloni si è fatto fare quel tunnel in marcatura era sempre lontanissimo da inglese veramente primo tempo poteva finire 3-0 per il Parma primo tempo terribile del Cagliari terribile secondo tempo un gol a culo ma io l'ho detto cinque minuti prima di fare il gol l'ho detto ragazzi per me finisce in pareggio e il Cagliari segna culo ma perché Liberani è veramente un miracolato perché ragazzi uno che ha queste idee di calcio almeno quello che sembra è veramente un miracolato uno che ti mette fuori Carbonia ti mette fuori zitto dopo che ti hanno fatto pareggiare loro la partita prima dopo che loro sono dei giocatori in crescita sui quali dovresti puntare questo è questo è Liberani uno che cambia diecimila volte la formazione ma andando a toccare delle cose stupide i terzini che se tu hai una sicurezza lì dovresti crederci io sono contento che non si sia data inizia un'alternanza a destra Zappa di Pardo Zappa certo lo vorrei vedere lo vorrei vedere un po' più integrato non è integrato è giubilato ad oggi ma io non capisco perché c'è questa alternanza Carboni-Barreca cioè Barreca allora oggi ha fatto una buona azione nel primo tempo nel primo tempo dove salta di netto l'avversario e mette dentro il cross Nandes per poco non segna l'unica occasione che abbiamo avuto netta praticamente quasi tutta la partita mi viene da dire perché poi nel secondo tempo sì abbiamo fatto qualcosa un po' di inerzia ma poca roba e voglio dire cioè per il resto il gol non se lo prende non se lo prende lui un giocatore che onestamente non mi pare dia nessun valore valore aggiunto commentate voi vi ripeto Hobert ha fatto una buona partita mi è molto piaciuto ho anche messo un bellissimo cross a un certo punto e per poco non facevamo gol Macumbo ve l'ho già detto Viola non mi ha fatto impazzire ma per me rispetto a De Iola e rispetto a Macumbo è di un altro livello e Kurfalidis effettivamente ne parlavo in intervallo era forse un po' spesato ma a me è parso quello che ha messo più intensità più corsa più grinta è l'ottantesimo avere i crampi è l'ottantesimo dovevi toglierlo non che cosa speri lasciandolo dieci minuti in più è un ragazzo che ha i crampi perché non ce la fa più fisicamente anche lì ragazzi date a Kurfalidis dieci partite come agli altri per macinare minuti dategli dieci partite a Kurfalidis vedete che cazzo di giocatore che diventa lo vedete già adesso che giocatore che è che è un giocatore che c'è che si sente che si fa sentire non è un giocatore che passa per caso a Cagliari e io l'ho detto e io l'ho detto mentre voi mentre voi mentre voi e qua veramente mentre voi molto in grande ve la prendevate con Altare ecco poi vabbè Pavoletti non può giocare titolare perché al di là del gol che vabbè non lo considero perché Cicci Zolla fa una cosa indescrivibile non può giocare la Padula troppe volte in fuorigioco ma ci ha messo ci ha provato io vi devo dire non me la sento di prendermela con la Padula Nandez oggi ha giocato secondo me meglio del solito l'ho visto veramente un po' dappertutto un po' dappertutto e e mi è piaciuto un po' di più ci ho detto vi chiedo una cosa vi faccio una domanda rispondetemi nei commenti se siete arrivati a questo punto ma perché a Cagliari la piazza di Cagliari da giochi illimitati a gente come Macumbo che è un giocatore secondo me vergognoso a quello che ha fatto ad oggi altro gli articoli i titoli degli articoli io me li ricordo i titoli di giornale di diverse testate Macumbo si prende il centrocampo del Cagliari un giocatore che aveva fatto aveva anticipato la preparazione che era molto più avanti degli altri per quello che era devastante fisicamente rispetto agli altri correva al doppio era più avanti la preparazione ci credo ma prende in mano il centrocampo del Cagliari quali erano i titoli questi qui Macumbo fenomenale io me li ricordo me li ricordo ho detto ragazzi attenzione attenzione Mancosu dov'è? dov'è finito Mancosu? si è rotto di nuovo Falco dov'è finito? aveva alzato questi dubbi ritorniamo alla domanda la domanda è ma perché a gente come Macumbo come Barreca come come a questo anche Pavoletti che voglio dire io gli voglio bene dell'anima ma veramente poca roba perché gli si danno veramente dei giolli completi e perché totali una quantità di giolli infiniti e perché ad altare per un errore massacrato riempito di merda di fango io adesso chiudo questo video chiudo questo video e vado a scrivere ad altare con i cuoricini ok? vergognatevi vergognatevi vi piace? dovrei imparare la chiusura dei video sarà vergognatevi ciao ragazzi un bacione grazie a tutti grazie a tutti